Tutti qui a fare certe cose è perché tanti ragazzi hanno dato la loro vita per noi, quindi un essere presente a livello istituzionale è grave, è molto grave. Ho sempre pensato, si ricorda il giorno che abbiamo fatto il giro in tutta la città, non abbiamo avuto modo di parlare, per me non si sta a perdere. Sono stato molto dispiaciuto di non poter partecipare a questa cosa. Chiedo scusa a tutti voi per la mia assenza. Grazie. 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 la bandiera ma 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 mi mi abbiamo promesso amore e servizio alla patria nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto donaci oh signore la forza di custodire e difendere il bene e prezioso grazie a tutti grazie a tutti